Buongiorno ragazzi, seconda giornata di Liga Calistenica, andiamo a vedere Allora, vedete la professionalità dei nostri giudici, auricolare per Paolo mentre Gaggi comunicherà le varie skills eseguite, quindi alziamo ancora il livello prossima volta probabilmente la GoPro, giusto Paolo, per vedere tramite cellulare ciò che accade quindi stiamo evolvendo Bene, siamo pronti, partiamo 3, 2, 1, via! 3, 2, 1, via! 3, 2, 1, via! 3, 2, via! 3, 2, via! 4, via! 4, via! 4, via! 5, via! 5, via! 5, via! 5, via! 7, via! 5, via! 3, 2, via! 5, via! 5, via! 3, 2, via! 4, via! 6, via! Grazie a tutti. 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 We're free. Grazie a tutti. ... 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.